La proposta del sindaco Ghinelli sugli ospedali da campo? In questo momento è un'ipotesi non all'ordine del giorno e poi è una valutazione che è rimessa alla protezione civile regionale. Così il direttore generale dell'Asla Toscana Sud-Est in merito alla proposta del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli di attivare in collaborazione con la protezione civile degli ospedali da campo per accogliere e curare i pazienti Covid consentendo così agli ospedali territoriali a partire dal Sandonato di tornare ad una regolare attività. Un'ipotesi dunque non all'ordine del giorno per l'azienda sanitaria che comunque vista la situazione emergenziale ha deciso di non perdere tempo e mettere in campo azioni mirate e precise che partono anche dalla riorganizzazione degli ospedali del territorio. La proposta di riorganizzazione della Toscana Sud-Est vede il coinvolgimento di altri ospedali che fino ad adesso non erano stati coinvolti direttamente nella cura dei pazienti Covid. Ieri in conferenza dei sindaci abbiamo condiviso il percorso, utilizzeremo ospedali, essenzialmente piccoli ospedali per cure intermedie Covid per i cosiddetti modica, cioè pazienti che vengono o dall'ospedale e che non possono ritornare al loro domicilio o ospiti per esempio dell'RSA che in questo modo possono trovare in quanto positivi al Covid l'accoglienza in strutture ASL. In provincia di Arezzo quali sono questi piccoli ospedali che avete individuato? L'ospedale della provincia di Arezzo è l'ospedale di Cortona, cominceremo con una parte dell'ospedale di Cortona vedremo la situazione epidemiologica come si sviluppa. La chirurgia si sposterà verso il privato, tornere dal centro chirurgico toscano? Le attività di chirurgia d'urgenza e le attività di chirurgia generale oncologica fino a che sarà possibile, le terremo all'ospedale San Donato mentre invece differiremo dall'inizio della prossima settimana le attività di chirurgia specialistica al centro chirurgico toscano. Praticamente a differenza di quello che è accaduto nella prima fase del lockdown attività di chirurgia e di medicina specialistica che nella prima fase del lockdown erano state sospese adesso continua. Gli ospedali stanno garantendo due linee di attività da una parte la linea covid e dall'altra la linea no covid.